Si avvicinano le vacanze di Natale, malgrado siano proibite le feste e qualsiasi forma di assembramento, c'è chi pensa comunque a festeggiare l'addio a questo anno funesto. In molti si stanno già fornendo di botti da far esplodere l'ultimo dell'anno, che siano questi legali oppure no, a qualcuno poco importa. Ed è proprio per questo che le forze dell'ordine in questo periodo intensificano i controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della vendita abusiva di questi artifici pinotecnici. che potrebbero essere molto pericolosi per le persone che li usano. E proprio durante uno di questi controlli, a Soriano Calabro, in un grosso capannone, i carabinieri hanno rinvenuto 800 kg di fuochi pirotecnici stoccati in 54 scatole contenenti botti, sia della categoria F2 che della più pericolosa categoria F3. Il tutto senza che i proprietari avessero le specifiche licenze per poterli commercializzare. Dopo l'intervento degli artificieri di Catanzaro intervenuti sul posto per procedere al campionamento e al repertamento del materiale, una donna di 36 anni originaria del luogo è stata deferita all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di omessa denuncia e commercializzazione di materiale esplodente.